Ieri notte? O era oggi pomeriggio? No, mi sa oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio ho stampato uno streamer, gli ero tool, mi ha aggiunto e mi ha augurato e poi mi ha bloccato. Infatti massimo rispetto ci sta. Vabbè gli ho scritto Easy Win, non l'ho presa bene. Grazie a tutti. Lo ho preso prima io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Schifo di Galactair, porco Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su chiami le palle, tu e il tuo cazzo di character copertina. Coglione. Oh, valore Tekken 100.000, capo. Dicono che Viking vuole fare 1v1 e se vuoi andare su Discord. Va benissimo. Dov'è? Eccolo. Ma guarda che c'è. Un uomo dalle grandi palle. Che ne dici? È il tuo Tekken preferito? Beh, contando che, tra virgolette, è il primo che gioco. Bogiardo che sei, porca puttana. Ho giocato un po' al set. Un po' al set. Quelle centinaia di ore, forse mille. No, io ve l'ho dato 200 ore sul set. Porca puttana, è il primo che gioco, 200 ore. Vabbè, ho cambiato 20 PG sul set, non c'entra niente. Ma invita a me, che non so manco dove si fa la partita, che è qua, partita del giocatore, crea sessione, tipo. Aspetta, aspetta. Allora, ci provo io, dai. Faccio fatte che sei il re delle pippe. Grazie. Sempre importantissimo avere la tua stima. Coglione. Massima stima. Coglione. Eccolo. Qual è il personaggio più forte del gioco, secondo te, per ora? Yoshimitsu. Oh, anche tu lo metti molto in alto, quindi. Non ci capisco niente. Quelli che ho trovato mi hanno tutti rotto il culo. La spadata che sul set era soltanto Perry qua fa da combo starter, non ha il minimo senso sta roba. No, è tutta strana, sì. Non ci capisco niente. Per me Jackotto e Jun sono... Jackotto non ha senso. Sono primi due proprio con margine. Jackotto non ho trovato in un paio... Ecco qua. Veramente pazzerelli. Ho fatto tutto io, tutto il round, mi ha colpito una volta. Ho finito la vita. Va bene. Ai! Questa cosa non la sapevo quando abbiamo giocato la prima volta. Ah, presa sul muro? Sì. Schiaffa? Ah. Molto figo. Belle ste finte. No, è troppo figo. Mi sono dovuto improvare. Quanta cazzo di roba abbiamo imparato? Tutte due, è bellissima sta cosa. Comunque un botto. Avvio. Ok, ok. Tu, 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 tu. Qui se ti riesco a che non premi, praticamente, ti rompo la guardia e quindi poi quei puniti sono... Quei gugnazzi entriano sicuri. Sono garantiti. Però è una lettura difficilina da fare. Perché se invece premi è molto lenta con la... Dice, è doggiabile. È solo... Non solo doggiabile, è proprio se tu premi qualsiasi altra cosa entra prima del... Perché questa è... Ma quanto è lungo? Ai! Ai! Anche stavolta ci siamo giocati tutti gli HP. Eeeh, sei pulvita. Sono pulvita perché sto giocando meglio di te. Cazzo di merda. Ragazzi, sto facendo scaldare il vecchietto. Sennò poi non gioca più. Che cazzata. Che enorme cazzata. Abbiamo Tekken che mi consigliate per iniziare a imparare. Tra King Steve, no, no, e Jack. Jack vagamente però. King Steve rascide esattamente dove sono. Perché è difficile. Per me non è così difficile. Cosa? Jack. No, infatti per quello. Ah, è vero. Jack può andare bene. King Steve, ma vincita. No, quelli altri no. Azz, noi abbiamo iniziato a mettere questo mix. Quindi io non devo più scegliere 50 e 50. Devo scegliere 50 e 50 nel momento giusto. Esatto. Bello. Porca putana. Mi stanno salendo delle malattie molto rare. E' divertente contro quelli forti forti che giocano che non smash, no? Sì. Era Marine. Dopo ci guardo, dai, pazienza. Ma ce l'avrai una mossa punibile o è tutto safe? Non mi capisco. No, non è safe un cazzo. Online mi spawn. Safe un po' puncazzo. In online ti do due pugni punito. Ok. Boia. Ahi. Lo userai nella vita reale tra un posto. Ahi. Su League of Legends a caso. Oggi stavo tutto ahi. 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 Eh, ma dopo ti devo far vedere una cosina molto carina che mi gasta un sacco. Va bene. Vediamo se dopo mi entra. Il Delmo. No, il Delmo ha iniziato adesso a giocare a te. Vabbè, darà un bidone. Già che ho rotto il culo alla pila. Sì. Per ora è un bidone. Come è normale che sia. Però è uno che impara in fretta, quindi bisogna vedere. Non so chi è il terzo di quel trittico. E quindi al momento sei sicuramente parecchio favorito in quel gruppo. E prenderò il cazzo. Ma è minimamente vero. Pendeco, porca di una puttana. Fai il tempo di prenderti. Ok. Ah, non ho premuto. Va bene, va bene. C'è l'emotional. Come no, carna? Oggi ne abbiamo fatto una marea di danni emotivi. Purtroppo mi sa che contro il fazzone non li faremo perché usa veramente pochi alti il fazzone. E i pugnazzi, quelli più di base. Fire! Quanto è lunga sta roba. Mette i carci dei 34, però. Grazie. Se la riesci a distinguere dal resto, sono quattro. Però io non li faccio per forza tutti. Per cui si inizia a parlare tutti. Poi diventa... Vabbè, comunque. Questi, di base così, sono quattro. Texposiste, eccoci qua. Quanto mi spiace che stai giocando a Zussena solo perché era più bella l'emote di Victor. Eh, expulsion. Expulsion. Funzionava troppo bene in chat dopo. Du, 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 du. Non premere, dai. Hai premuto. Vabbè, l'ha un cervello. Come testo? Ah. Ah, veramente hai messo in po' le basse. L'ultima volta non li mettevi mai. Ho capito. L'ultima volta abbiamo giocato che non avevo ancora toccato questo videogame. E piange. E piange. E piange. Va bene. Va bene. E piange. Ma dimmi, la vita hai fatto niente. Non l'hai fatto per militartelo. Sono un po' spaventato, devo dire. Devo dire un po' spaventato. Oh, io, io. Oh, bello. Bravo, bravo. Il pianto paga sempre. Assolutamente sì. No, non ci credo. C'è un terzo hit su quella merda. Eh sì. Perché tocco? Sono quattro. Ahia. E this? Non stavi premendo nulla però, eh? Sa, bruzzo. Oh, colpa mia, colpa mia. Qui non ha già premuta. Non ha già premuta. No, 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 ma in realtà dovevo fare un'altra cosa, quindi va bene così. Va bene così. Mi fido? Due, mo, due te, due io e una te, e una prima te. Due pari, in teoria. Non ha già sbagliata. Ma porco. Ah, lo scrivi anche in automatico se faccio quello, ho capito. Da, medio, medio entra. Medio entra. Ok, meno male. Medio entra, poi me lo prendo nei denti. E' tutto un bait. Per questo che bisogna fa con quel cazzottone? Bisogna fa sassi, tipo. 8 OP e basta. Oh, forse, forse se ti abbassi, ma se ti abbassi rischi che se scelgo l'altra opzione sei morto, certo. Forse, forse sì. Me vale bello veloce. Fire. Ma guarda questo. Mazza, tu c'hai anche il passetto avanti. Che fai? Copi? L'ho parato. Mannaggia a me che cerco di strappare. Ho fatto, ho cercato di fare un low parry. E lì ho spettato, ho spettato. Hai aspettato? Quindi dici che con un tempismo normale ci avrei preso. Poi verrà. Eccolo! Danni emotivi! Entrano! Finalmente. Che bello! Danni emotivi in two perfect al fazzone. Bello. Si mette sul curriculum questa. Sulla targhetta del re. Fam! Bang! Maravissimo fazzone. Managgia una puttana. Ma perché qualsiasi cosa tocchi fa splat a muro? Questa cosa la devo capire, eh. Sarà mica normale. Oddio, Nanni sta giocando a te che notto mi è uscito sotto. No, lo ne ho bisogno. Chiamiamolo subito. Ne ho bisogno assolutamente. Ditegli di venire subito su TeamSpeak. Fate venire Livorno. Fate venire Livorno su TeamSpeak. Assillatelo. Buttateli 50 euro di tanja. Sganciategli un po' di cosi. Ma porca puttana. Oddio, mi manda anche la faccina felice, Nanni. Non mi fa ridere! Eccoci qua. Sono morto. Ai! Non è in live, però ci sta guardando perché ha messo la faccina felice. Ah, dai. Perse anche questo. Allora, vai su LOL e perdi. Vai su Tekken e perdi. Forse il problema, non so, i giochi... Alessandro Nanni Pieri. Forse c'è un... MoneyGap.